A treia 1, 2, 3, Luglio 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 Permento, festival delle birre artigianali. I prese del di fermento in preparazione. Andiamo con la cottura. I prese del di fermento vi aspettano. Le pizza stanno diventando. Vi aspettiamo tutti al fermento. Non mancate vi aspettiamo. Fermento. Ragazzi non mancate vi aspettiamo. Non mancate. Vi aspettiamo non mancate. Vi aspettiamo non mancate. Vi aspettiamo, non mancate! Vi aspettiamo, non mancate! Vi aspettiamo, non mancate e abbiamo preparato tutte le macchinette per le foto. Vi aspettiamo per riempire il fermento. Vi aspettiamo, non mancate! non mancate, vi aspettiamo vi aspettiamo, non mancate vi aspettiamo tutti a fermento vi aspettiamo a fermento il Foglio Club, il mulino vi aspetta a fermento tutti a tre, a fermento vi aspetta vi aspettiamo tutti a fermento